Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, subito subito, scusatemi per l'audio perché non trovo le cuffie e allora l'audio sarà un po' di merda. Dunque, il vincitore del giveaway che ha vinto questi quattro mazzi si chiama Alessandro Giacomelli. Non so come si chiama su Instagram, Alessandro contattami, scrivimi un commento sull'ultimo post in cui ti ho menzionato e scrivimi in privato perché non so come ti chiami su Instagram per controllare se hai rispettato tutte le regole. I quattro mazzi ti li farò spedire dopo. Un'altra cosa ragazzi, dirò quando sarà il contest, a quanti iscritti sarà il contest e la settimana prossima perché comincerò a fare dei video ancora di magia, ricominceranno i tutorial, magari qualche serie nuova. Volevo anche dirvi che c'è qualcosa di molto grosso a cui un progetto veramente grande di di cui voglio farvi partecipi. Non tutti potranno partecipare perché robe che non vi posso svelare. Niente, è qualcosa di veramente grande che sognavo da fare da molto tempo, solo che non avevo avuto la possibilità. E niente ragazzi, più avanti vi svelerò più o meno cos'è. Nel frattempo vi ringrazio perché ormai siamo a 270 iscritti. Tutti quelli che non hanno vinto il contest, non vi preoccupate perché il giveaway, scusate, farò in un futuro brevissimo ovviamente il contest. Ci saranno delle sorprese, giveaway, altre robe stranissime. E niente ragazzi, io vi saluto, continuerò a fare i tutorial e di sicuro domani risponderò a qualche delle vostre domande che mi avete fatto nel video precedente, un bonus penultimo e di sicuro farò un bel blog domani e le domande risponderò la prossima settimana. Io vi saluto, vi auguro una buona serata. E niente ragazzi, volevo dire un'altra cosa subito che mi ero dimenticato. Includerò tutte le settimane, vi consiglierò dei canali. Occhio, occhio, occio, occio, non sono assolutamente, no, no, non sono sponsorizzazione. Perché questi canali che io consiglierò a voi, non sono di magia, non mi hanno contattato, non mi contatteranno, cioè, i canali che io vi dirò di andare a vedere, a guardare, cioè, non mi contatteranno per, né mi pagheranno, insomma, lo farò perché mi sembrano abbastanza belli ed è una cosa che ho copiata da un canale spagnolo. Dunque, finisco qua, vi auguro una buona serata, io vi aspetto forse domani perché ci sarà un vlog. E niente, vi saluto, praticate magia ma non lasciate di studiare. Scrivimi sotto, su Instagram perché Giacomo, no, Alessandro Giacomelli. Tutti gli altri, non vi preoccupateci, saranno sorprese. Io vi saluto, buona serata ancora, ciao!